Ufficializzati i nomi dei parlamentari marchigiani eletti dopo i verdetti delle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Nei collegi uninominali dove i candidati del centrodestra hanno vinto le se sfide con i loro competitor, rispettivamente al Senato la maceratese Elena Leonardi, Fratelli d'Italia, e Antonio De Poli, Udc, e alla Camera Francesco Battistoni, Forza Italia, Giorgia Latini, Lega, Stefano Benvenuti-Gostoli, Fratelli d'Italia, e Mirko Carloni, Lega, già vicepresidente della Regione Marche. Oltre a quelli eletti nei collegi uninominali alla Camera passano altri sei candidati, due per il PD, e sono l'ex deputata e già vicesindaco di Macerata Irene Manzi, e l'ex sindaco di Force Augusto Curti. Due per Fratelli d'Italia, la deputata uscente Lucia Albano di San Benedetto e il pesarese Antonio Baldelli, mentre per la Lega il commissario regionale e deputato uscente Lumbro Riccardo Augusto Marchetti e per il Movimento 5 Stelle il deputato uscente Giorgio Fede, anche lui di San Benedetto. Al Senato sono stati eletti con il sistema proporzionale in tre. Uno per Fratelli d'Italia, l'ex sindaco di Ascoli e attuale assessore regionale Guido Castelli, uno per il PD, il commissario regionale delle Marche Alberto Losacco, e uno per il Movimento 5 Stelle, il senatore uscente Ascolano Roberto Cataldi. Tra le sorprese, la mancata elezione della campionessa iesina di scherma Valentina Vezzali, Forza Italia, e l'esponente leghista di Montegranaro, deputato uscente Mauro Lucentini.